Calano i conducenti fuggiti dopo aver causato un incidente nel comune di Rimini. La maggior parte di loro però resta impunita perché non viene rintracciata. Ha processo per aver truffato una compagnia assicurativa, assolta avvocatessa riminese. Ad accusarla era stata una cliente. È deceduto il papà della beata Sandra Sabattini, aveva 92 anni e diceva di sé sono un padre come tutti gli altri. Su Rayplay da oggi è possibile vedere il docufilm African Dreamers prodotto dal gruppo Icaro che racconta la storia di cinque ragazze africane alla ricerca di riscatto. L'ultimo caso a Rimini è di domenica. Buonasera e bentrovati all'edizione serale di Icaro Tg. Nonostante il calo rispetto allo scorso anno restano ancora tanti gli automobilisti che fanno perdere le loro tracce dopo aver provocato un incidente. Il report della polizia locale di Rimini mostra anche che sono diversi i pirati della strada che restano impuniti perché non vengono mai rintracciati il servizio. L'ultimo caso a Rimini è di domenica scorsa quando il conducente di un'auto ha colpito in pieno uno scooter senza fermarsi per accertarsi delle condizioni del ferito. Proprio oggi il figlio del proprietario del mezzo, un 35enne riminese, si è costituito ammettendo di essere lui alla guida. Un fenomeno, quello dell'omissione di soccorso che la legge punisce in maniera pesante arrivando fino all'arresto in caso di incidenti conferiti. Arresto che può essere evitato se ci si costituisce entro 24 ore dall'episodio. Secondo i dati contenuti nel report della polizia locale di Rimini, lo scorso anno sono state 27 le persone denunciate per essere fuggite dopo un incidente. Il caso più eclatante nell'ottobre scorso, quando un furgone ha colpito un'auto e dopo due chilometri ha provocato un secondo incidente, con l'autista trovato con un tasso alcolemico ben al di sopra della soglia consentita. Purtroppo, in 19 casi, le denunce sono state disposte verso ignoti perché non è stato possibile risalire al pirata della strada. Un fenomeno grave che però registra un'importante contrazione rispetto al 2021, quando furono 43 le persone denunciate e ancora di più rispetto al 2019, quando le denunce a seguito di incidenti furono 55. La ricerca dei conducenti che fanno perdere le loro tracce, ricorda l'assessore alla polizia locale Magrini, richiede indagini molto articolate, analisi dei filmati, delle videocamere, ricerche nei database, raccolta di testimonianze. Un impiego di tempo e risorse importanti a cui però, conclude l'assessore, continueremo a fare fronte con determinazione. Ora una notizia di giudiziare è stata assolta sia dall'accusa di truffa ai danni di una compagnia assicurativa, sia di calugna nei confronti della cliente che si era rivolta a lei affinché le seguisse la pratica. Sotto processo era finita un'avvocatessa sessantenne del foro di Rimini, difesa dal collega Stefano Caroli. Tutto era nato da un sinistro stradale, datato 15 maggio 2016, nel quale era rimasta coinvolta una 55enne sanmarinese, risultata parte l'ESA. Per ottenere il risarcimento dell'assicurazione, la donna si rivolse all'avvocatessa riminese che alcuni mesi dopo fu indagata dalla procura di Rimini per aver indotto la compagnia assicurativa a riconoscere un indennizzo maggiore alla sua assistita attraverso la produzione di una falsa certificazione di guarigione con una relazione valutativa di un danno biologico pari al 9% a firma di un medico che successivamente disconobbe il suo autografo. In pratica la cliente si sarebbe detta all'oscuro della falsa perizia attribuendo all'avvocatessa la responsabilità della sua produzione. Questa mattina il giudice monocratico del tribunale di Rimini però l'ha solta da entrambi i capi di imputazione, una sentenza che getta nuove ombre sulla cliente la cui posizione all'epoca fu archiviata. Restiamo alla cronaca. Alla richiesta del biglietto ad Atine Scandescenza minacciando i controllori e all'arrivo della polizia si è scagliato contro gli agenti buttandone uno a terra. Momenti di tensione ieri verso mezzogiorno a bordo di un bus di Start Romagna. Il mezzo stava percorrendo Viale Roma a Rimini quando il viaggiatore, un 54enne originario di Pescara, ha cominciato ad avere un atteggiamento molesto e minaccioso nei confronti dei controllori che stavano svolgendo verifiche sui ticket dei passeggeri. Il 54enne, senza fissa dimora e disoccupato da tempo, viaggiava senza biglietto. Era già successo altre volte ed era già stato per questo sanzionato. Di fronte alla prospettiva di essere nuovamente multato, avrebbe chiesto un po' di clemenza ai controllori dal momento che non avrebbe avuto la possibilità di pagare la sanzione. Quando i poliziotti sono saliti sul mezzo, il viaggiatore si è scagliato contro di loro tirandone una terra. Il collega è stato così costretto ad utilizzare lo spray al peperoncino per immobilizzare l'esagitato. L'uomo arrestato è tornato libero questa mattina con l'obbligo di firma in questura, in attesa della prossima udienza fissata il 6 febbraio. Voltiamo pagina. È deceduto questa mattina Giuseppe, il papà della beata Sandra Sabattini. Aveva 92 anni. Per tanti anni aveva seguito con discrezione il percorso di canonizzazione che il 24 ottobre del 2021 ha portato alla beatificazione della figlia in Basilica Cattedrale. In quell'occasione aveva portato i doni all'altare durante la processione offertoriale. Vediamo. Da suo papà Sandra aveva ereditato la propensione alla riflessione e il desiderio di conoscere realtà diverse dalla propria. I due erano molto affiatati. Così la biografa Laila Lucci descrive Giuseppe, il papà della beata Sandra Sabattini, venuta a mancare oggi a 92 anni. Il giorno della beatificazione, il 24 ottobre del 2021, insieme al figlio Raffaele e altri familiari, al presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, Giovanni Paolo Ramonda, aveva portato il pane e il vino nella processione offertoriale. A chi gli chiedeva come fosse essere il papà di una santa rispondeva con umiltà nella semplicità di chissà di essere parte di una storia più grande. Mi metto in difficoltà perché non voglio essere chissà che cosa. Sono un padre come tutti gli altri, né più né meno. Io di questa figlia che avesse questa virtù non l'avevo mai scoperta, chiuso. Ho capito le sue cose normali nella vita, l'umiltà, correva dietro lei al povero, ma tutto il resto non lo so. È stato un altro Dio che ha fatto e ha voluto. Molti mettono me in mezzo, ma io c'entro ben poco in questo discorso di santità. Però è vero che Sandra in famiglia aveva respirato il bene, questo è certo. Lasciamo stare, è un bene normale che possono avere tante persone, quindi quello che è successo io non ho fatto tanto, è stato Dio che avrà fatto il resto, senz'altro. Di queste cose non ci si rende conto perché è normale. È stato Don Oreste che era un mio amico, abbiamo fatto una parte di gioventù assieme, siamo andati a Roma in bicicletta nel 50, via parlando. È stato lui che poi ha scoperto, attraverso lui, ha scoperto quello che c'era scritto in giro nei fogli e i foglietti, perché anche lui di queste cose non sapeva niente. Qui Don Oreste ha capito qualcosa e ha portato avanti il discorso che siamo arrivati fino a questo punto qui. Parliamo ora di sanità. Questa sera alle 20.35 su Icaro TV a tutta salute si parlerà di mamme e violenza ostetrica dopo il caso del bimbo morto al Pertini di Roma, soffocato dalla mamma che si era addormentata mentre lo allattava. Il titolo della puntata è le mamme dopo il parto sono appena nate, ci vuole supporto. Ospite della nostra Lucia Renati la Presidente della Federazione Nazionale Ordini Professione Ostetricia, Silvia Vaccari, che ha parlato delle richieste fatte al Ministro della Salute Schillaci per migliorare l'assistenza alle mamme negli ospedali. Vediamo uno stralcio della puntata. Le mamme che si recano negli ospedali sono giustamente impaurite, giustamente la percezione che hai è sempre quella più negativa rispetto a quella positiva, per cui un maggiore sforzo ulteriore dobbiamo mettere in campo adesso per assicurarle, per accoglierle nel modo giusto. Spesso le mamme, io ne faccio proprio un discorso culturale, guardi, perdo un secondo. La donna nasce e cresce con inculcato, non ho capito bene nel DNA da chi, da noi, dalle nostre mamme, che si deve prendere carico e se tu non riesci a prenderti carico della tua famiglia, culturalmente vieni un po' messa da una parte. Quindi spesso le mamme non chiedono per paura di sentirsi inadeguato al ruolo genitoriale. Di essere additata come incapace. Come incapace, come persone. Invece noi dovremmo essere sicuramente, e spesso lo siamo, particolarmente attenti anche nel recepire queste piccole sfumature delle mamme, ma anche le mamme ci devono comunque chiedere. Proprio ieri abbiamo avuto la riunione in Regione Emilia-Romagna per i fabbisogni formativi, mi veniva proposta un numero esiguo di ostetriche da poter formare fra tre anni e siamo giunti a una mediazione portando a casa, perché hanno capito le motivazioni che io portavo, di come proposta al Ministero di formare, di far entrare almeno 120 ostetriche in Regione Emilia-Romagna nei quattro ternei per i prossimi tre anni, perché poi ci sono i pensionamenti e a fronte dei pensionamenti le persone non sono state sostituite. Noi rivendichiamo questo fatto di poter stare con le donne uno a uno, di poterle accompagnare, ma di poter soprattutto programmare un'assistenza proprio ad hoc per ogni persona, secondo le sue richieste, perché questo è il nostro lavoro, ma soffriamo anche noi quando non riusciamo ad assecondarle alle donne. Lo smog resta una criticità in Emilia-Romagna, lo confermano i dati dell'annuale rapporto malaria di legambiente relativo al 2022. In Emilia-Romagna nel 2022 sette capoluoghi su nove hanno superato il tetto di 35 giornate con livelli di PM10 oltre i limiti. Rimini è a 43, si salvano solo Bologna e Forlicesena, Modena è a 75, ma guardando al 2030 con i tetti previsti dalla nuova normativa europea, in prospettiva tutte le grandi città dell'Emilia-Romagna sarebbero fuori legge con Piacenza maglia nera. E' questo il quadro che emerge dal rapporto malaria di città di legambiente. Piacenza, ad esempio, dovrebbe ridurre per il 55% le concentrazioni di polveri ultrafini in sette anni per stare al passo con l'Europa. Sul fronte del PM10, invece, le città a cui livelli migliori, come Bologna, Forlì e Cesena, dovrebbero ridurre le concentrazioni del 20%. Rimini dovrebbe ridurre del 30% per arrivare al 39% di Modena. Secondo legambiente, la tendenza di decrescita dell'inquinamento è troppo lenta, il tasso medio annuale di riduzione delle concentrazioni a livello nazionale è del solo 2% per le polveri sottili e del 3% per il biossido di azoto. Per legambiente servono scelte più forti, investire su infrastrutture per il trasporto pubblico di massa e spostare il trasporto di merci su ferro. Perché lo smog è tuttora la prima causa di morte premature in Europa e in Italia, dovuta a fattori ambientali. In occasione del viaggio di Papa Francesco in Repubblica Democratica del Condugo e Sud Sudan, su RaiPlay è possibile da oggi trovare il docufilm African Dreamers, prodotto dal nostro gruppo Icaro, scritto e diretto dal collettivo di autori Iksunt Leones. Il documentario racconta la storia di 5 giovani donne che vivono in 4 paesi africani da dove molti fuggono in cerca di una vita migliore. Loro invece hanno deciso di restare e di provare a cambiare la loro vita, lottando contro i pregiudizi, le credenze, le violenze e le culture antiche che troppo spesso negano diritti universali. e ve ne proponiamo un passaggio. Ci sono i poliziotti, giocano con noi, rendono soprattutto i più piccolini, ti violentano, ai bambini capitano queste cose. Avevo otto anni, avevo otto anni e c'era un vecchio. Andavo da lui, neanche lo conoscevo. Usciva con me, mi dava dei soldi, poi ce ne sono stati molti che sono passati tra le mie mani. Mi hanno detto che ero una strega e mi hanno portata in una camera di preghiera. E anche il pastore che era là, mentre pregava, mi metteva una mano sulla testa e mi ripeteva che ero una strega. Quando sono arrivata qui a Bagamoio, ho iniziato a lavorare e da allora continuo a lavorare tutti i giorni. Tre anni, non un giorno di riposo. Mi sono alzata molto presto quella mattina. Mi ha svegliata la sorella di mia madre, che mi ha spiegato cosa mi avrebbero fatto quel giorno. Ma era troppo tardi, perché era proprio in quel giorno che dovevano circoncidermi. In chiusura allo sport, il playmaker di Riviera Banca Basket Rimini, Davide Meluzzi, ospite ieri sera di Calcio.Basket, ha commentato la convincente vittoria di domenica con l'Umana Chiusi e presentato la sfida di domenica prossima, sempre al Flaminio, contro la Fortitudo Bologna. Sentiamo cosa ha detto. Per quanto riguarda questa partita, mi riallaccio alle parole con cui Mattia Ferrari ci aveva lasciato a inizio partita. Ha detto che non importa come, che sia una partita bella, sporca. L'importante oggi è portare a casa i due punti, anche perché poi ci volevamo rifare della brutta sconfitta che avevamo subito chiusi. Quindi penso che poi, a prescindere di andare nello specifico di questa partita, questa squadra dia soddisfazione perché da chi gioca a 30 a chi gioca a 3, ognuno porta il suo mattoncino alla causa e questo penso sia la cosa più bella. Per quanto riguarda i due punti mancati a Udine, sono uno che tende a vedere il bicchiere mezzo pieno e di conseguenza, al posto che dire potevamo segnare l'ultimo tiro, potevamo fare meglio questo, meglio quell'altro, abbiamo dato prova per prima cosa a noi stessi e poi dopo a tutti che se giochiamo una partita solida ce la possiamo giocare con tutti. Penso che alla fine della partita con Udine sia questo un po' fra virgolette l'insegnamento che dobbiamo trarre tutti. Come si vive la settimana che porta a una partita comunque così sentita, così bella, così importante e che avrà una cornice di pubblico sicuramente clamorosa perché sarà Riviera Banca Dei, sarà giornata bianco-rossa e insomma c'erano tutte le condizioni. Sicuramente dobbiamo essere emozionati perché non è una partita che si gioca tutte le domeniche per ovvi motivi, però allo stesso tempo dobbiamo essere bravi a farcela vivere come se fosse una settimana del tutto normale, tanto ci si chiede sempre di andare in campo e giocare una partita di pallacanestro, quindi sicuramente poi una volta che entri in campo per il riscaldamento vedere Flaminio pieno e giocare contro una squadra storica come la Fortitudo fa un certo effetto però mi rallaccio a quello che ha detto, non dobbiamo metterci noi troppa pressione, troppe aspettative o cose di questo tipo ma soprattutto poi godirci il momento. E questa sera la pallacanestro sarà ancora protagonista di Icaro TV con Basket On Air in diretta dalle 21.10 alle 22.40, ospiti il playmaker della Fortitudo Flat Service Bologna Matteo Fantinelli, il coach dell'Uniauro Forlì Antimo Martino e l'assistant coach della Tramec 100 Andrea Cotti. E' tutto, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del nostro territorio e la nostra piattaforma icarople.it dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro compreso il Tg. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti.